Gentili signore e signori, gentili telespettatori ma anche radioscoltatori, buonasera e ben ritrovati al nostro consueto settimanale di approfondimento Pianeta Oggi Reporter. Dunque parleremo quest'oggi di un argomento un po' particolare ma molto importante da non sottovalutare, cioè i messaggi subliminari, cosa sono i messaggi subliminari e come si fa anche per difendersi. Il sottoscritto ha intervistato il ricercatore Francesco Amendola in occasione di una conferenza che si era tenuta in località Brugnera, siamo in provincia di Pordenone. Conferenza organizzata, lo ricordiamo, dall'associazione Terra Mater, che io naturalmente ringrazio per averci dato questa opportunità, questa occasione di affrontare anche questa tematica che, come ripeto, non è da sottovalutare. Dunque io direi a questo punto di dare la linea alla regia, vediamo dunque il nostro servizio, l'intervista a Francesco Amendola. Chi è Francesco Amendola? Ma sono una persona come tante, sono soltanto un ricercatore che dopo varie esperienze di vita mi sono interessato a questo fenomeno e oggi ne parlo un po' in giro. Comunque non so se vuole sapere chi sono io veramente, sono un padre di famiglia, ho due bambini e per me è molto importante che loro e i miei figli sappiano cosa guardano e cerco di fare il meglio per loro e anche il fatto di cosa guardano in televisione. Perché appunto emergono dei messaggi subliminari, non solo in televisione, abbiamo visto anche sui loghi, sui loghi anche in vari campi tecnici, abbiamo visto poi anche messaggi dai cartoni animati, messaggi subliminari nella moda eccetera. Ecco, possiamo spiegare ai telespettatori in sintesi cos'è un messaggio subliminare? Il messaggio subliminare è un qualcosa che va a intaccare il nostro inconscio, quindi è un messaggio che parla al nostro inconscio piuttosto che a livello conscio. Noi non ci accorgiamo di questi messaggi subliminali che vengono sparati a volte anche frazioni di secondo oppure vengono messi là insieme ad altre cose e questo proprio per associare un sentimento o un'idea al prodotto. Quindi molte volte si trovano dei prodotti dove vengono associati qualcosa di sessuale in modo, a livello inconscio, in modo da vendere di più il prodotto. Ecco, ce ne sono di vari tipi? Sì, ci sono di tipo esoterico, culto, ci sono di tipo pornografico, sessuale, politico, religioso e così via. Ecco, questi messaggi abbiamo visto, li troviamo anche in televisione molto spesso, anche sui loghi. Ecco, quindi a me viene in mente se in una nazione c'è un monopolio televisivo, questi messaggi potrebbero passare meglio? Ma, senza altro, questo è un fattore sicuramente, sì, è un punto abbastanza valido, nel senso che alla fine sono pochi che controllano i media, quindi se c'è qualcuno al vertice che vuole far passare certe cose, sì, potrebbe anche essere il caso, ecco. Però, però, ecco, io non so di preciso, non posso, diciamo, dare un'idea cospirativa. So che il fenomeno c'è, si vede. Come si fa per vederli, per intuire che in quella immagine c'è un messaggio subliminare? Allora, beh, non è facile, bisogna innanzitutto essere capaci di vederli, nel senso che innanzitutto non bisogna soltanto guardare le cose soltanto così in maniera distratta, ma bisogna osservarle. Poi, ovviamente, dipende dai messaggi, sono alcuni messaggi che sono esoteriche e se una persona non ha fatto degli studi in tale materia, è molto difficile riconoscerli. Però, ecco, ci sono adesso vari siti, anche su internet, e spero anche un giorno anch'io di farne uno, in modo da spiegare, da un po' da far capire alle persone come riconoscerli. E queste serate servono anche a questo, ecco. Certo, conferenze, ma anche un sito internet in modo tale da dare un punto di riferimento, un punto di incontro ai telespettatori, così possono avere, ecco, poi lì tutte le spiegazioni. Sì, c'è da stare attenti anche perché su internet, però, a volte ho visto che questo messaggio, cioè questo fenomeno, non viene spiegato bene e molte volte ci sono alcune persone che fanno dei video di messaggi subliminali che non sono messaggi subliminali, quindi bisogna stare attenti perché poi perde di forza il concetto del messaggio subliminale perché molte persone, non riconoscendole, non sapendo cos'è il messaggio subliminale, a volte danno un'idea diversa e le persone dicono ma questa è una cavolata, ecco, quindi bisogna anche saper scegliere i siti internet dove spiegano questa cosa qui. Ecco, secondo te perché si vuol mandare, si vuol diffondere questi messaggi? Noi siamo essenzialmente un prodotto, siamo un numero, siamo un numero e vogliono venderci i loro prodotti, soprattutto qualunque esso sia, potrebbe essere un prodotto di cibo, vestiario, oppure può essere un prodotto, vogliono venderci i prodotti della loro religione, delle loro idee politiche, delle loro, di qualsiasi cosa, quindi noi siamo qui che compriamo i loro prodotti e loro ce li vendono non solo in maniera conscia ma anche inconscia, quindi c'è una gara anche per come venderci queste cose, quindi loro si concentrano molto su queste cose qui. Sia marketing, politico e anche altro? Ma anche religioso, anche religioso, adesso io questa sera non ho toccato questi vari aspetti, però insomma anche politico perché no certo, ci sono vari messaggi subliminali anche politici, per esempio io durante la campagna elettorale americana i telegiornali che erano a favore di un candidato all'altro, durante la sigla del telegiornale mettevano magari immagini di pochissimi secondi, di frazioni di secondi del candidato che volevano loro. Se uno non si accorge, lo stesso avrebbe delle conseguenze? I messaggi subliminali, la mente conscia è qualcosa di molto complesso, la nostra mente sicuramente assorbe tutto a livello conscio e sicuramente ogni messaggio subliminale può in qualche modo danneggiare, inquinare la nostra mente, io sono convinto di ciò. Scusa se insisto, ma a volte ci si butta in divano con la tv accesa, concilia il sonno, si prende il sonno, ecco anche durante la fase del sonno ci possono essere degli assorbimenti? Lì andiamo in un ambito secondo me un po' no, durante il sonno no, non penso che queste cose, io penso che quando l'occhio guarda, cioè l'immagine è la più potente di ogni cosa, per esempio anche hanno provato gruppi rock per esempio a mettere messaggio subliminale, l'incontrario nei loro dischi eccetera, però vedo che negli ultimi anni hanno abbandonato questa cosa qui e vanno molto più sulla copertina, sui concerti, sullo show, puntano più sull'immagine, sulla moda, queste cose qui che è più visibile, più di impatto immediato e quindi sì. Ecco visto anche sui cartoni animati ci sono? Sì, i cartoni animati sono pieni, ovviamente i bambini sono i bersagli favoriti da queste cose qua perché sono quelli più malleabili, sono quelli più che assorbono di più e meglio e quindi bisogna stare attenti a quali cartoni animati noi facciamo guardare i nostri figli senza ovviamente diventare scemi, ma cercare di usare equilibrio in ciò. Selezionare bene il telecomando, secondo te Francesco come mai le istituzioni non bloccano questi messaggi? Ma perché io ho una mia idea, se dovessero bloccare ogni tipo di messaggio subliminale e poi dovrebbero estendere questa cosa in altri campi e questo forse non fa bene, non fa bene anche perché si vende meno, le multinazionali si arrabbierebbero, la pubblicità non vuole limiti e vogliono entrare nei modi più impensabili nelle nostre case, quindi questo sarebbe un grande smacco per le multinazionali anche. Ecco, ancora una cosa, ho visto che i messaggi, prima durante la conferenza i messaggi subliminari sono legati anche a quella che è la massoneria, i massoni. Eccoci, puoi spiegare un attimino come punto finale? Diciamo, ho parlato di massoneria questa sera, ma in realtà la massoneria, loro sono dei, la massoneria, sono, come posso dire, collezionano vari principi di esoterismo antichi. C'è una selezione come? No, loro incorporano un po' tutto ciò che è esoterico e ovviamente poi questa cosa qui viene riproposta poi nei media, chi lo sa, magari controllate anche da loro. La massoneria è una realtà oggettiva, il nostro governo ha avuto anche problemi con la massoneria, non scordiamoci, l'unità d'Italia è stata fatta dai massoni, quindi i massoni hanno una grande influenza nei governi e nella nostra società. Ecco, un simbolo per esempio che viene usato è l'occhio. Sì, l'occhio rappresenta l'occhio di Horus, c'è l'occhio di Horus stilizzato come geloglifico egiziano, quello viene usato anche, ma diciamo l'occhio massone è all'interno di un triangolo, quello sta a simboleggiare il loro dio. Ecco, no, perché ti ho fatto questa domanda non a caso perché anche noi in sigla finale abbiamo ultimamente un occhio che passa, no? Quindi provvederemo, anzi provvederò a toglierlo. Come, sì, per me, nel senso che non posso dire... Allora che vengo a sapere questo, quindi è bene... Diciamo che molte volte, una cosa che forse non ho detto questa sera, che molte volte questo tipo di cose, di messaggi che vengono dati esoterici, a volte non viene fatto apposta, ma viene fatto un po' come atto di emulazione, oppure si copia da un'altra parte, non bisogna diventare fanatici per questo. Però diciamo che l'occhio richiama un po' quel tipo di... per non suscitare magari sospetti sarebbe meglio toglierlo, però, insomma... Penultima domanda, perché l'argomento è molto interessante, potremmo dedicarci anche più alla trasmissione, ma ora il tempo non c'è. Lavaggio di cervello e controllo mentale, è la stessa cosa? No, no, non so per niente la stessa cosa. E c'è questo ricercatore famosissimo, un professore psicologo famosissimo nei Stati Uniti, che si chiama Stephen Hassan, che lui studia le varie religioni e il controllo mentale da parti di sette. E lui, faceva parte anche lui di una setta che si chiamava Nimunis, che è una setta che proviene dalla Sud Corea. E lui, uscito poi dopo da questa setta, ha fatto delle ricerche e il consiglio e i suoi libri sono veramente eccezionali, perché spiegano come avviene il controllo mentale da parte di alcune sette religiose. E la stessa cosa avviene un po' anche nei media. Il lavaggio del cervello, come ho spiegato anche io stasera, è forzare l'individuo ad accettare come capo o come idea un qualcosa che viene imposto con la forza, con la tortura. Invece il lavaggio del cervello è un qualcosa di subdolo, un qualcosa di sottile, che viene dato con la persuasione. Molte volte il lavaggio del cervello viene fatto da qualcuno che è amichevole, il controllo mentale viene fatto da qualcuno che è amichevole, una persona di fiducia, di stima. La televisione oggi in Italia è diventata quella persona amichevole che ci consiglia, ci dice cosa comprare, cosa non comprare. Però allo stesso tempo ci ha anche resi, secondo me, a livello mentale schiavi, ci ha reso sotto controllo mentale. Quindi c'è una differenza tra le due cose, tra il controllo mentale e il lavaggio del cervello. Uno è imposto con la forza, l'altro no. Esatto, si è stato molto chiaro. Ancora una cosa per i telespettatori, perché si domanderanno come possiamo fare per difenderci da questa situazione? Per difenderci da questa situazione è innanzitutto guardare quello che si guarda, osservare quello che si guarda. Controllarli, diciamo. Controllare, anche quando esce un cartone per esempio per i nostri figli, dare magari un'occhiata prima, vedere se c'è qualcosa che ovviamente non sempre si riuscirà a vedere o non vedere. L'importante è che sappiamo che non tutto ciò che guardiamo è puro, limpido, bello. Questo è il messaggio che volevo dare questa sera. E poi un altro esempio è quello di informarsi. Quello di informarsi, andare ai siti internet, andare a studiare, leggere. Ecco, proprio in finale, abbiamo parlato purtroppo di messaggi negativi. Possiamo chiudere con un messaggio positivo, cioè Gesù Cristo, tu cosa ne pensi di Gesù Cristo? Ma io stasera ho chiuso anche, parlando di Gesù Cristo, Gesù Cristo, io sono un credente, sono un credente e per me Gesù Cristo è stato il maestro che mi ha fatto vedere queste cose qui. Io leggendo la parola, leggendo la Bibbia, leggendo i suoi insegnamenti, sento che veramente ci libera mentalmente, non ci mette sotto un controllo mentale. E come anche detto questa sera c'è una forza del male che vuole sovrastare una forza del bene, la forza del bene. E quindi questi sono tutti dei sorterfugi, sono tutti delle tecniche malefiche che vogliono in qualche modo contrastare il bene, il bene che vuole emergere nell'umanità ma che purtroppo in questo momento viene difficile. Per me la lettura della Bibbia, la lettura dell'insieme di Gesù Cristo possono anche questi aiutare, perché ci rendono liberi, liberi in Cristo. A nome di tutta la nostra redazione ti ringraziamo per queste spiegazioni, per questo lavoro che stai facendo nei confronti della società. Grazie e naturalmente a presto. Grazie a voi, grazie a voi, grazie. Dunque ritorniamo in studio, ringrazio Francesco Amendola per queste importanti spiegazioni, motivo di approfondimento, altresì ringrazio l'associazione Terra Mater per averci dato questa possibilità di affrontare questa tematica molto importante, ripeto da non sottovalutare. Grazie anche a voi gentili telespettatori che ci avete seguito, appuntamento come sempre, alla prossima settimana. Grazie a voi, grazie a voi.